Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Cecilia Rodriguez, l'amara rivelazione in queste ore. Un problema molto serio che è emerso sui social. Tra le donne più seguite nel mondo dei social, c'è di sicuro quella che è riuscita a scrollarsi di dosso tantissime etichette in questi anni. Il legame tra Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen è da sempre parso molto importante, appunto da far credere al pubblico che il successo di Cecciu fosse legato strettamente a quello di sua sorella. Nel corso del tempo, però, proprio la giovane Rodriguez ha dimostrato di essere una donna in grado di catturare l'attenzione del pubblico indipendentemente da quello che è il percorso di Belen. Ed allora ecco che sono arrivate anche le grandi soddisfazioni nel mondo del lavoro. Modella ma anche abile influencer, Cecilia è stata in grado di distaccarsi totalmente dall'immagine di Belen. Anche la sua storia di amore con Ignazio Moser è una delle più seguite nel mondo della televisione. I due si mostrano tante volte sui social mostrando proprio quel sentimento così forte che li lega. Ma tornane sul legame con Belen, Cecilia ha spiegato molto bene a Cosmopolitan il suo punto di vista. Convivo con Belen da quando sono nata, abbiamo sempre avuto un legame fortissimo. Conosco la sua personalità, non mi è mai pesata, anzi, per me è un orgoglio guardare tutto ciò che ha fatto, non c'è mai stata alcuna gelosia, ha spiegato la piccola Rodriguez. Certo, essere fermata per strada da gente che mi chiede una foto e neppure sa il mio nome e dice facciamoci un selfie con, la sorella di Belen, non mi piace. Perché io sono io, voglio essere io, ha ancora rigelato Cecilia. Cecilia Rodriguez, la rivelazione spiazza tutti i fan, e così i social rappresentano uno degli strumenti che Cecilia utilizza molto spesso. Uno strumento di lavoro, che per la Rodriguez è il modo giusto per provare a dare tutto quello che riesce anche sotto il punto di vista lavorativo. Credo che, dopo un figlio, la cosa più bella del mondo sia avere nipoti? Ha spiegato ancora Cecilia riferendosi ai figli di Belen. Con questo caldo non ce la posso più fare, la rivelazione di Cecciu su Instagram, riferita proprio al caldo di questi giorni. Un collegamento costante, quello che la Rodriguez e i suoi fan. E così anche i problemi legati al clima diventano argomento di discussione con i follower. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.